La mano sinistra è facilissima e preme queste note qui Quando facciamo il secondo in giro invece gli ultimi due accordi sono invertiti, quindi sarà così Per la mano destra vi faccio una versione facile e una versione difficile La versione facile è semplicemente questa, dove premiamo il Do e il Re La versione più complicata invece è questa Se vogliamo farla ancora più forte possiamo premere le ottave, in questo modo qui Grazie per la visione! Grazie! Grazie!